Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Dopo l'esperienza come concorrente nella sesta edizione del grande fratello Vipe Giudice della Pupa e il Secchione, Soleil Sorge è stata ospite di Belen Rodriguez e Teoman Meccari nell'ultima puntata delle Iene, andata in onda mercoledì 13 aprile su Italia 1 Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite Soleil Sorge è italo-americana e infatti è perfettamente bilingue In realtà tutti parlano di lei solo per l'ultimo GF VIP, ma prima lei ha fatto tanta gavetta, uomini e donne, Pechino Express, l'isola dei famosi e ha fatto appunto anche il GF VIP 6 Nella puntata di mercoledì 13 aprile delle Iene Belen Rodriguez ha introdotto così l'ospite Soleil Sorge Soleil Sorge marca prezzo vestito Iene.Soleil Sorge, marca e prezzo del vestito indossato alle Iene E ancora, i suoi ex, Nicola Eppoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Gianmari Antinoifi Tutte relazioni che iniziano un reality e finiscono con chi? E poi al GF VIP si rende protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, ha detto Belen Rodriguez facendo un elenco degli ex fidanzati di Soleil Sorge, dimenticandosene uno L'ex Geffina è stata infatti fidanzata con il fratello della conduttrice, Jeremias Rodriguez, conosciuto all'isola dei famosi C'era anche lui nella lista, l'ha omesso appositamente, ha scherzato Soleil Sorge con l'ex cognata Belen Ai tempi del fidanzamento tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez in molti avevano raccontato che tra lei e la famiglia di lui non scorresse buon sangue e in una intervista rilasciata a Gossip It, Cecilia Rodriguez aveva detto di lei, non lo mai capita Non solo i suoi ex fidanzati, Soleil Sorge ha ovviamente catalizzato l'attenzione grazie anche all'outfit scelto per l'ospitata Le Iene, un mini-dress e dei sandali coordinati in arancio, entrambi firmati MWP wardrobe Il vestito è in vendita online a 189 euro, mentre le scarpe, modello Saint Tropez, costano 299 euro Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao